E' un match molto atteso quello contro il Latina per un Avellino che ha raccolto due pareggi nelle prime due giornate di campionato. Sicuramente più deludente contro il Campobasso, visto che la trasferta di Castellammare nascondeva non poche insidie. Il Latina di Didonato, dal canto suo, avrà la daltesta libera al partegno Lombardi, sognando lo scherzetto al più quotato Avellino. Starà a Braglia e ai suoi uomini alzare l'asticella e passare allo step successivo, quello di cominciare a vincere soprattutto contro compagini di rango più basso, soprattutto in casa. Squalificato Aloy, infortunato Mikoski, il tecnico dei Lupi si affiderà al suo 4-3-2-1 con forte tra i pali. Ciancio, Silvestri, Dossena e Tito dovrebbero essere i quattro che comporranno la difesa, con quest'ultimo che sarebbe preferito a Mignanelli per la maggiore qualità che può dare tra le mura amiche. Parola di Braglia. A centrocampo unico dubbio davanti alla difesa con De Francesco favorito su Mastalli e Matera. L'ex Juve Stabia, infatti, non sembra essere in cima alla lista del tecnico per quanto riguarda il ruolo di playmaker, mentre De Francesco lo ha fatto praticamente sempre tutto il campionato scorso. D'Angelo e Carriero, quindi, le mezzali davanti. Maniero dovrebbe essere preferito a Plescia per una maglia da titolare. Gli esterni a comporre il tridente saranno Di Gaudio e Canuté. Come di consueto, l'appuntamento per seguire pre- e post-gara di Avellino Latina è con stadio e studio a partire dagli ore 20 su Prima TV Canale 90 e in diretta a Facebook sulla pagina di Prima TV insieme al Divin Peluso in diretta dal Partenio Lombardi.